Fermo sull'appello denuncia che ho fatto ieri, che stamattina si è trasformato in denuncia perché l'azienda USLA di Modena ha denunciato alla Polizia Postale due casi di palesi, notizie false, una era quella che avevo avuto anch'io come cittadino, che citava infezioni qua e là da coronavirus, adesso siamo passati alla fase della denuncia e continueremo tutte le volte che ce ne sarà bisogno quando qualche sciacallo continuerà a dare notizie che sono finte.